Salve ragazzi, allora scusatemi se sto a petto nudo ma fa troppo caldo Allora, vittoria del Milan 1-0 contro il Real Madrid Un'altra vittoria nelle amichevoli Tra l'altro contro una squadra molto tosta come il Real Molto difficile da battere Comunque, diciamo, sono solo amichevoli Non vi preoccupate, non è una partita chissà che importante Però devo essere sincero Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra Mi è davvero piaciuto Più che altro mi è piaciuto perché si tratta di una partita assolutamente alla pari Il Milan, dalle statistiche, sembra che abbia dominato Ma in realtà la partita l'ho vista da capo Ottimamente hanno giocato il Milan Ha dominato praticamente qualcosa come 89 minuti L'ultimo minuto l'ho lasciato a loro Per il resto, che devo dire Cioè, insomma, il Milan ha fatto una gran partita Però anche il Real ha giocato, devo essere sincero Preparavano tutti e due, molto, formazioni molto, insomma, con ragazzini I loro campioni Brahim Diaz, Courtois e Modric E Ceballos I nostri campioni Loftus Cic, Tomori E Chukwezel E ad essere buoni anche Benazer Questi qua 3, 4 e 4 voglio dire Questi erano i loro campioni, i nostri Devo essere sincero Mi ha sorpreso, sono ancora sorpreso Lo sapete, l'ho saputo stamattina Cioè, perché l'ho rivisto per la partita Poi da capo, per farvi sto video Incredibile il Milan Cioè, davvero la squadra vuole seguire Fonseca Ora c'è la partita col Barca Statevi buoni Non fatevi male Non fatevi male E poi penseremo al Monza E al resto delle partite Ah, Alvaro Morata Alvaruccio Vuoi tornare, santo Dio, in Italia? All'allenarti con il Milan? Santa Madonna Sei nostro ora Dovresti... Tutti stanno allenando con noi Tranne te, vabbè, megnano e te Vabbè, mo' tornerete pure voi Ma, ragazzi, bisogna stare molto attenti Comunque Col fatto di allenarsi costantemente Comunque, ragazzi Per questo il video Vabbè, non è finito Cioè, qualche cosuccia da dire Pare che Emerson Royale Stia venendo da noi Ragazzi, sapete perché Dobbiamo imparare ad accettarlo? Perché Emerson è un terzino Molto difensivo Ci serve in questo momento Florenzi Si è rotto il crociato Lo volete capire o no? Spizzi Non ci sarà più nel Milan, purtroppo Adesso serve Emerson Royale Jimenez Sarà il vice Teo Hernandez E per il resto Ragazzi miei Che vi devo dire Cioè, insomma Ragazzi Che vi devo dire Cioè, non Non dobbiamo pensare solamente a A Come si chiama? Solamente A queste michele Dobbiamo pensare anche al futuro E Alla squadra E per questo motivo Occorre che Emerson sia preso E mo' dobbiamo chiudere per Fofanà Il 10% sull'eventuale rivendita Milan Fai bene a fare sta cosa Pensate che su Maldini Tutti dicono L'avete dato via per 7 milioni Tipo E intanto E intanto avremo il 50% Sulla futura rivendita Quindi c'è Se Maldini Tipo Dovesse andare a A Madrid E lo pagherebbero 60 Non so Un esempio Va 60 milioni 30 andrebbero a noi A proposito di 30 milioni Lo sapete Malik Ciao Per quanto lo vendiamo? Forse Per 30 milioni Proprio Quindi cari interisti Chiedete il becco Che il Milan Sta facendo un mercato Buono Ah Dimenticavo Malik Ciao Vale 3 volte Bissec Però ne abbiamo preso Pavlovich Che comunque Può sostituirlo Alla grande Per quanto riguarda Invece il resto Del mercato Si vedrà Io Tefu farà Vorrei solo Fufarare Persona Royale E magari Come cosa Sa Mardic La punta Puoi mettere Okafor Che fa il numero 9 Del Milan Anche perché ragazzi No ha Mei da fiducia Tammi Abram Eh ragazzi Che vi devo dire Io gli altri L'altra settimana Fa dicevo Noi Abram Non lo vogliamo Ma perché? Perché temevo Che vendessimo Okafor Invece no Okafor Resta al Milan Pare che il Milan Voglia fare un altro metodo Per arrivare a Tammi Abram Anche perché Tammi con il Milan C'ha un accordo Non è un brutto 9 Devo essere sincero Però il numero 9 Del Milan Tammi Abram Insomma Non è proprio Una mossa Ottima Però Da milanista Io voglio Okafor Però Ti viene viene L'importante È che il Milan Si rinforzi Perché ragazzi Questo è l'anno Per vincere lo scudetto Contro l'Inter Perché il Milan Veramente è migliorato Tantissimo Con questi giocatori Pensate un po' Se ci completiamo Come rosa Come sarebbe Comunque ragazzi Adesso devo lasciarvi Perché devo fare una cosa Ci vediamo La prossima volta Scusate Chiudi il becco tu Ci vediamo la prossima volta Semmi forza Milan Ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Dopo Barcerona a Milan Farò altri video Un po' spartita Ciao ciao Ciao